Una vasta esercitazione di protezione civile che coinvolge le agenzie di due regioni, Lazio e Abruzzo, per testare nuovi mezzi, per formare il personale e cercare di migliorare il più possibile la lotta agli incendi boschivi. Sì, suggeriamo oggi un accordo che abbiamo siglato con la regione Lazio, con la protezione civile della regione Lazio, proprio per le esigenze di confine. Questo significa lavorare su aree che possono essere presidiate alternativamente o da Lazio o dall'Abruzzo a seconda della rapidità di intervento. Oggi abbiamo testato un...